Dato che le trote oggi sembrano essere molto in superficie perché vediamo delle bollate seguite da sciate, scegliamo la 20 a fondabilità 2.60 e la montiamo sulla nostra Trabucco Switch B5. Adesso vediamo come realizzare la lenza che è molto semplice. Per realizzare quindi la nostra lenza infiliamo prima di tutto sulla lenza madre la bombarda, io l'ho già infilata partendo ovviamente dalla parte dell'astina e dopodiché la mandiamo sul nostro filo. Ovviamente mettiamo un salvanodo, in questo caso uso una molla conica, potrete usare anche una perlina in gomma pur che sia abbastanza resistente perché il peso della bombarda se mettete una perlina troppo soffice si rovina facilmente quindi non fa più il suo effetto. Dopodiché l'immancabile girella tripla come ispezione terminale in questo caso utilizziamo un Amo Isashi 10608N misura 8 abbinato a una lunghezza di filo di 2,70 metri.